Comune di Napoli e Fondazione Moscati hanno firmato questa mattina una convenzione che consente di fornire sostegno economico alle famiglie in difficoltà. Il percorso nasce per promuovere una cultura della legalità ed evitare che si ricorra a crediti illeciti per fronteggiare un debito. Le persone che potranno soffrire di questo accordo sono tendenzialmente tutte, cioè tutte quelle persone che decidono di recuperare la propria situazione economica, di affermare che c'è un problema, di essere aiutati da una fondazione seria, dai servizi sociali e di immaginare poi di creare un percorso non solo di sostegno ma anche di recupero. Avremo da una parte il Comune ma cercheremo di coinvolgere l'ASL 1, che abbiamo già coinvolto, abbiamo sentito il direttore generale, e la Caritas, abbiamo sentito la responsabile della Caritas Napoli, per poterli coinvolgere in questa opera di screening e di segnalazione delle famiglie per aumentare la nostra capacità d'ascolto perché noi abbiamo una dotazione di fondi significativa, quindi possiamo intervenire sul territorio in maniera importante. Stiamo concludendo anche un'operazione importante con una banca del territorio, che è la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco. Nei prossimi giorni porteremo a termine questa operazione. Chi si è impegnato economicamente perché ha giocato d'azzardo oppure ha fatto dei debiti molto più importanti, non riesce più a pagare il fitto e si trova in una condizione di disagio da diversi anni, quindi questo è fondamentale. Però c'è un tema importante che la Fondazione Moscati attua ed un tema anche educativo di recupero, cioè noi non ti diamo solo i soldi, noi facciamo un incontro con la famiglia, tutta la famiglia deve essere consapevole del problema che si sta vivendo, c'è una presa in carico anche dei figli di tutti e poi insieme pensiamo a quanto ti possiamo sostenere e a come tu devi rimborsare questi soldi perché questi soldi poi vanno ad aiutare altre famiglie.